Diffondi Libro A Radio Incontro, Maria Pia Colella, per un cuore libero, come gestire le emozioni e non esserne schiavi. Benvenuta Maria Pia, vogliamo parlare di questo subito. Benvenuta Maria Pia, vogliamo parlare di questo subito. Che non sa più cos'è un mondo emotivo, che ha delle idee sbagliate su quelle che sono le emozioni, i sentimenti, i desideri, i bisogni. E quindi si fa confusione. Come dire, ci sono persone che non è che non hanno gli occhi, ce li hanno, ma li hanno chiusi. E allora, piuttosto che far pensare a tanta gente che dentro di loro ci sia qualcosa che non va, semplicemente col mio libro ho cercato di dire apri gli occhi su quello che sei e vai avanti spedito. Lei è psicologa e psicoterapeuta, quindi da qui nasce questo libro? Esatto, nasce dal lavoro e dalla testimonianza e dal racconto di tante persone incontrate che avevano difficoltà relazionali nella loro vita, a volte apparentemente insormontabili per loro. Difficoltà appunto che erano dovute alla ignoranza, ma nel senso di ignorare come funzioniamo, che cosa c'è dentro di noi, qual è la meta della nostra vita e quali sono le funzioni che abbiamo, le capacità che abbiamo. Erano imbrogliati e una persona imbrogliata è un po' come un cane al guinzaglio, no? Quindi sia il mio lavoro, ma soprattutto il mio libro ha il desiderio di togliere il guinzaglio alle persone, di fargli aprire gli occhi, di ridonare quella libertà che poi ognuno desidera, anela a raggiungere. Quindi noi siamo desiderosi di libertà, ma ci sono pochi uomini liberi. In questo libro ci sono delle indicazioni quindi? Sì, questo libro è una descrizione del nostro mondo emotivo, che è la parte centrale per diventare essere umano. Che cos'è? Come funziona? Quali sono gli elementi di cui è costituito? A cosa servono? Qual è il suo scopo? Quindi intanto si fa una distinzione che non tutti sanno tra emozioni e sentimenti. A cosa servono le une, a cosa servono gli altri, come le possiamo utilizzare le une, come possiamo utilizzare gli altri, con degli esercizi. Perché il mondo emotivo e tutto quello che è la padronanza del mondo emotivo è un'arte e va imparata, allenata. Quindi come si allena un pittore o uno scultore di fronte alla loro opera, conosco gli strumenti e provo e riprovo. A noi manca la conoscenza e l'allenamento sul mondo emotivo. Questi sono i due sentieri che cerco di tratteggiare col mio libro. La conoscenza con delle informazioni e l'allenamento attraverso gli esercizi. Una guida non per chi è sicuro, ma per chi è imbrogliato. Esatto. Per chi sta vivendo delle difficoltà a tutti i livelli, ragazzi, relazionali tra una coppia, di educatori, difficoltà che si percepiscono e a cui non si sa dare il nome. Ecco, propongo una guida per dare il nome a queste difficoltà e un allenamento per uscirne. A chi è rivolto? Mi riferisco alla fascia di età, questo libro. Beh, io penso che dall'adolescenza in poi, da quando c'è la possibilità mentale, di poter accedere a quelle informazioni che ti fanno riflettere su te stesso. Un bambino non ce l'ha questa capacità, ma già un adolescente sì. Adolescenti, genitori, educatori, fidanzati, sposi, tutti quelli che possono diventare padroni del mondo emotivo proprio e riuscire a leggere e a capire, a mettersi in contatto col mondo emotivo dell'altro. Parliamo di lei come autrice in questo caso, ma soprattutto come psicologa e psicoterapeuta. Sì, io sintetizzerei queste figure in una sola parola, testimone. Il mio lavoro mi permette di essere testimone della grandezza che poi è l'uomo e di essere testimone nei confronti degli altri che non c'è un burrone dal quale non ci si possa risalire. Perché l'ho visto. Ho visto uomini a terra rialzarsi ed ho visti uomini così sicuri di non cadere mai invece di sprofondare. Il mio lavoro mi dà la possibilità di viaggiare nei paesi dell'anima e poi come una guida turistica mi piace raccontare i posti dove sono stata, le cose belle che ho visto e i pericoli che si possono incontrare. Io la ringrazio, lo ricordo, questo è un libro di Maria Pia Colella, è un libro edizioni San Paolo, progetto Famiglia, Scienze Umane e Sociali. Progetto Nazareth, se non sbaglio? Sì, dice bene. Infatti adesso mi trovo qui, stiamo portando avanti il laboratorio sulla comunicazione di coppia, un corso bellissimo per tutte le coppie che sentono il bisogno di comunicare meglio. E quindi è un momento, unitevi a me, pensateci con tutta l'energia perché davvero vediamo cose incredibili accadere. La ringrazio, buona giornata, buona estate, magari ci risentiremo alla prossima opera. Va bene, a presto allora e grazie a voi per il vostro lavoro. Grazie, buona giornata. Buona giornata, grazie. Diffondi Libro Questa rubrica è offerta da Diffondi Libro, servizi editoriali professionale. Diffondi Libro è il nuovo servizio professionale per diffondere e proporre libri a tutti i media italiani. Per informazioni info-diffondilibro.it oppure redazione-diffondilibro.it Diffondi Libro Diffondi Libro Diffondi Libro